ciao a tutti oggi vediamo come eliminare il cattivo odore che viene dalla pattumiera che teniamo in casa la pattumiera che teniamo di solito sotto al lavandino quella dove mettiamo l'umido in pratica è sempre molto sgradevole perché basta che uno la tiene un giorno di più e manda quel cattivo odore che è terribile che come apri lo sportello lo senti e si diffonde per tutta la cucina poi in fondo in basso scende anche di solito si forma quel liquido che si deposita appunto dall'umido assolutamente dobbiamo risolvere questo problema e per farlo è molto semplice e abbiamo sempre il nostro rimedio green che va sempre benissimo ed è il migliore ve lo assicuro aceto di vino bianco pulite la pattumiera con della carta da cucina imbevuta di aceto di vino aceto bianco questo è straordinario per eliminare il grasso per disinfettare e soprattutto per gli odori e non aspettate che la pattumiera sia piena piena perché va svuotata ogni giorno altrimenti l'accumulo fa ancora più cattivo odore sul fondo della pattumiera dopo che l'avete pulita metteteci un foglio di carta da cucina ci mettete una manciata di bicarbonato di sodio e di nuovo sopra un foglio di carta della cucina e poi mettete il sacchetto pulito nuovo in questo modo vedrete non avrete più cattivo odore che viene appunto dalla pattumiera fate così e risolverete il problema è un trucchetto molto semplice che dovremmo conoscere tutti e farlo una volta a settimana cambiate la carta sotto e vi ritroverete quest'angolino più pulito e meno maleodorante arrivederci al prossimo video